Dalla processione del Cristo morto fino alla Madonna che scappa, eventi che caratterizzano il periodo pasquale della città di Sulmona, in realtà tutto il comprensorio Peligno propone manifestazioni religiose fortemente radicate nel territorio, a Prato la Peligna, Introdacqua, Pacentro, Prezza e che sono state messe a sistema su impulso di istituzioni locali, regione e DMC Terre d'Amore, offrendo servizi, percorsi enogastronomici ed altri eventi capaci di coinvolgere i turisti nelle prossime due settimane contrassegnate da vari ponti, un nuovo modo di promuovere e valorizzare le risorse storico-culturali della vallata. Beh sì, la Madonna che scappa è la manifestazione clou di tutta la settimana pasquale, è una rappresentazione sacra che però è tra le più importanti, tra le prime dieci importanti manifestazioni in Italia, richiama infatti a Sulmona annualmente tantissimi turisti. La Settimana Santa però si arricchisce di tanti altri riti e manifestazioni fortemente identitarie, arricchite però anche da tanti piccoli e grandi eventi che fanno sì che tutto questo periodo sia particolarmente attrattivo per turisti golosi di esperienze uniche nelle nostre aree interne. Dopo la settimana, subito dopo, già il 24 ci sarà un grande evento musicale, Fabio Concato, a seguire quindi anche per i ponti, quindi altri eventi fino al 3, 4 e 5 maggio dove ci sarà la diciannivesima edizione del Sendiero della Libertà, sulle orme che i nostri partigiani seguirono verso la libertà durante la resistenza, il percorso che fece l'emerito presidente Ciampi in quel periodo. Abbiamo, io penso, una realtà per quanto riguarda i riti pasquali unica al mondo, dalla più importante e suggestiva che la Madonna che scappa in piazza a Sulmona, poi abbiamo anche a Prato alla Peligna, addirittura dove corrono entrambi, sia la Madonna che il Cristo risorto e poi abbiamo nel comune di Prezza e addirittura nel comune di Introdacqua, la Madonna che vola. Quindi da questo punto di vista abbiamo una realtà unica al mondo che dobbiamo ulteriormente assieme istituzioni, associazioni che organizzano e mondo imprenditoriale valorizzare.